Amici, grazie a tutti e ben tornati in un nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e andate a seguire anche su Twitch, che quando saremo un po' anche lì, inizio a portarvi qualche live estemporanea. Ragazzi, io di questa cosa non ne avrei voluto parlare. Speravo che neanche uscisse la notizia, ancora non è certo, non è sicuro, però nemmeno la notizia avrei voluto sentire. Già qualche settimana fa avevo sentito che Enzaki se voleva portare Hadou all'Inter e già lì ho detto, senti, tu te ne puoi andare, ma non mi puoi portare via il boss. Quindi già lì, poi per fortuna è andato un po' scemando pure quella notizia. Ma pochi minuti fa ho visto che Enzaki se voleva portare Marusic come riserva di Hakimi, che per carità, ci sta. Ci sarebbe stato se la situazione non fosse stata quella che è. Perché tu te ne vai così dalla Lazio e in più ci puoi pure togliere i pezzi forti. Già ce ne avevamo pochi dei pezzi forti. Levaci pure quelli che c'avevano. Quindi, cioè, neanche è diventato l'allenatore dell'Inter, praticamente, perché ancora non c'è ufficialità e già inizia a rompere le scatole. E dai su, cioè, ora posso capire tutto, ma farcela così, cioè, farci uno sgambetto del genere non mi sembra giusto. Già c'è privato del tuo essere allenatore. Che, a parte la persona, eri un grande allenatore, sei un grande allenatore. E mo' mi puoi pure levare i pezzi forti della squadra. E dai, piate Murici, piate Patrick, no? Se poi potete dirvi, piate questi. No, dai, qui, ammarlo e cerato. Gli unici due buoni che c'avevano, cioè, due dei pochi buoni che c'avevano. Vabbè. E penso un po' come sto messo, sto dichiarato e buono. Vabbè. Allora, ragazzuoli. Io, io credo che, che questa cosa vada un po' risolta. Poi, mo' aspettiamo Sarri. Aspettiamo Sarri. Sono usciti i convocati dell'Italia. Poi magari farò un video a parte domani per parlarne meglio. Volevo andare in live uno di questi giorni per parlare un po' con voi del fatto degli allenatori. di ciò che sta succedendo. Sto ora simulando anche un po' di Minions, quindi vi porterò anche il secondo episodio degli spacchettamenti. Spacchetteremo altri Minions in ricerca di quello italiano che non si può trovare. E ragazzi, io spero che queste audizie vadano un po' scemando, che poi non si avvegliano. Perché se Inzaghi prova solo a toccarne uno dei nostri, sei veramente un bastardo. Cioè, scusate, mo' il francesismo, però, cioè, veramente... Non solo, appunto, ci hai fatto sta cosa che te ne sei andato prima, vedo di rimanere, e già ci sei sulle scatole. E ce le va pure i giocatori. Cioè, non mi sembra onesto. Non mi sembra veramente una persona... Se dovesse farlo, sarebbe veramente una persona piccola, così. Cioè, che poi è giusto, ovviamente, prendere i giocatori anche della Lazio. Però capite che, cioè, eticamente mi pare un po' scorretto. Poi, ragazzi, fatemi sempre la vostra. Se magari la pensate diversamente, accetto i vostri commenti. Ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Penso, o stasera o domani, vi porto la mia opinione sui convocati dell'Italia. E' la sua, lasciate like, iscrivetevi, commentate, e rimanete sintonizzati, perché, come vi ho detto prima, vorrei fare una live in questi giorni, poi vi farò sapere quando. E' la sua lì, sempre forza razio, e un salutone. Ciao.